Le idee pistra impalate arrivano. Come sempre, dal Giappone, l'ultima trovata del paese del sol levante vede protagonista un hotel di Acone. Ad ovest di Tokyo, dove da oggi pantofole, cuscini e tavolini si possono parcheggiare da soli. Proprio come accade alle auto di ultima generazione. In soliti comfort la tecnologia utilizzata dal propilot park Ryokan Hotel Sirif proprio al mondo dell'automotive ed è presa in prestito da Nissan. In piccolo, il sistema che equipaggia le auto della casa nipponica, per esempio la Leaf, elettrica al 100%, consente anche di mettere a disposizione degli ospiti una serie di insoliti comfort. Le pantofole, i tavolini e i cuscini da pavimento che si riordinano da soli. Basta premere un pulsante e, a prima vista, il propilot park Ryokan sembra un albergo tradizionale. Pantofole ordinatamente allineate all'ingresso, tatami, tavolini bassi e cuscini nelle camere. Dall'arredo essenziale, la sorpresa è che tutti gli oggetti sono provvisti di una versione alberghiera della tecnologia. Atta alla guida autonoma, battezzata per l'appunto propilot, di Nissan. Se ciabatte, tavolini e cuscini sono sparsi per la stanza. Basta premere un pulsante e tutto torna al suo posto. Una specie di parcheggio, ripristinando l'ordine. Il concorso su Twitter Nissan offre a una coppia di viaggiatori la possibilità di provare gratuitamente questa esperienza, trascorrendo una notte al propilot park Ryokan Hotel. Per partecipare al concorso basta pubblicare un post su Twitter con gli hashtag CancellettoPryokan. Cancelletto World Toastay. Fino al 10 febbraio.